possiamo morire solo se amiamo solo una volta sono stato amato davvero simpatia ne ho avute sempre e di tutti neppure alla persona più occasionale è stato facile essere pesante o brusco o perfino freddo con me ho avuto alcune simpatie che con il mio aiuto avrei potuto forse perlomeno trasformare in amore o affetto non ho mai avuto pazienza o attenzione di spirito neanche per voler utilizzare tale sforzo quando ho iniziato a osservare in me questo fatto ho creduto a riprova di quanto non ci conosciamo che in questa vicenda della mia anima vi fosse un motivo di timidezza ma poi ho scoperto che non c'era c'era un tedio delle emozioni diverso dal tedio della vita una insofferenza a legarmi a qualsiasi sentimento costante soprattutto quando sarebbe stato necessario accompagnarlo costantemente a uno sforzo continuato a che scopo pensava dentro di me ciò che non pensa ho abbastanza sottigliezza tatto psicologico sufficiente per sapere il come ma il come del come mi è sempre sfuggito la mia debolezza di volontà è sempre iniziata con una debolezza della volontà di avere volontà così mi è successo nelle emozioni come mi succede nell'intelligenza e anche nella stessa volontà e in tutto ciò che è vita ma quella volta in cui una malizia del caso mi ha fatto credere di amare e constatare davvero di essere amato all'inizio sono rimasto stordito e confuso come se avessi vinto un premio alla lotteria in moneta non convertibile poi dato che nessuno è umano senza esserlo mi sono sentito leggermente vanitoso però questa emozione che sembrava la più naturale è passata rapidamente ad essa è sopraggiunto un sentimento difficile da definire ma nel quale emergevano con disagio le sensazioni di tedio di umiliazione e di fatica di tedio come se il destino mi avesse imposto un compito in feste serali sconosciute di tedio come se un nuovo dovere quello di una orribile reciprocità mi fosse attribuito con l'ironia di un privilegio che io avrei avuto anche se annoiandomi ringraziando di esso il destino di tedio come se non mi bastasse l'inconsistente monotonia della vita perché adesso gli si sovrapponesse la monotonia obbligatoria di un sentimento definito e di umiliazione, sì di umiliazione ho tardato a capire a cosa fosse dovuto un sentimento apparentemente così poco giustificato dalla sua causa avrebbe dovuto apparirmi l'amore di essere amato ma avrei dovuto essere orgoglioso che qualcuno avesse attentamente considerato la mia esistenza come quella di un essere da amare ma a parte il breve momento di reale vanto in cui tuttavia non so se lo stupore non abbia avuto un ruolo maggiore del vanto stesso l'umiliazione è stata la sensazione che ho ricevuto da me stesso ho sentito che mi veniva offerto una specie di premio destinato ad altri certo un premio di valore per chi naturalmente lo meritasse ma fatica soprattutto fatica quella fatica che va oltre il tedio allora ho capito una frase di Chateaubriand che mi aveva sempre ingannato per ignoranza di me stesso dice Chateaubriand entrando nel personaggio di René lo stancava essere amato ho riconosciuto con stupore che ciò rappresentava un'esperienza identica alla mia e la cui verità quindi non avevo il diritto di negare la fatica di essere amato di essere amato davvero la fatica di essere l'oggetto del fardello delle emozioni degli altri trasformare chi avrebbe voluto vedersi libero sempre libero in fattorino della responsabilità di corrispondere della decenza di non fuggire perché non si pensasse che si è principi nelle emozioni e si rifiuti il massimo che un'anima umana possa dare la fatica di trasformare la nostra esistenza in una cosa assolutamente dipendente da una relazione con un sentimento altrui in ogni caso la fatica di dover per forza sentire di dover per forza anche se non reciprocamente amare anche un po' questo episodio così come è venuto è ritornato nell'ombra di esso oggi non resta niente né nel mio intelletto né nella mia emozione non mi ha portato nessuna esperienza che non potessi ricavare dalle leggi della vita umana di cui ho una coscienza istintiva perché sono uomo non mi ha dato neanche un piacere che con tristezza possa ricordare ho un dolore da ricordare anch'esso tristemente ho l'impressione che sia stata una cosa letta da qualche parte un incidente è capitato ad altri una novella letta a metà di cui è mancata l'altra metà senza che me ne importasse visto che fino a dove l'avevo letta andava bene e sebbene non avesse senso era già tale che la parte mancante non le avrebbe potuto dare un senso qualunque fosse stata la sua trama mi resta solo una certa gratitudine per chi mi ha amato ma è una gratitudine astratta inespressiva dell'intelletto piuttosto che una qualche emozione mi dispiace se qualcuno abbia sofferto a causa mia questo mi spiace davvero e non mi spiace di nient'altro non è naturale che la vita mi offra un altro incontro con le emozioni naturali vorrei quasi che mi apparisse per vedere cosa sentirai la seconda volta dopo aver fatto tutto il percorso di un'ampia analisi della prima esperienza è possibile che senta di meno è possibile anche che senta di più se il destino me lo darà che me lo dia riguardo alle emozioni sono curioso riguardo ai fatti di qualsiasi tipo essi si riveleranno non ho nessuna curiosità non subordinarsi a niente né a un uomo né a un amore né a un'idea avere quella indipendenza distaccata che consiste nel non credere nella verità e qualora esistesse neanche nell'utilità della sua conoscenza questa è la condizione in cui mi sembra debba scorrere per se stessa la vita intima intellettuale di coloro che non vivono senza pensare appartenere questa è la banalità credo ideale donna o professione tutto questo è prigione e manette essere significa essere liberi la stessa ambizione se fossimo orgogliosi è un fardello pesante e non ne saremmo tanto orgogliosi se comprendessimo che è una corda con cui ci tirano no neppure legami con noi liberi da noi come dagli altri contemplativi senza estasi pensatori senza conclusioni vivremo liberi da dio il piccolo intervallo che nella pausa la distrazione dei boia concede alla nostra estasi domani abbiamo la ghigliottina se non sarà domani l'avremo dopo domani prima della fine trascorriamo al sole il riposo ignorando volontariamente i propositi e le conseguenze il sole dorerà le nostre fronti senza rughe e la brezza porterà aria fresca a chi non spererà più getto la penna sulla scrivania ed essa torna rotolando sul piano inclinato su cui lavoro senza che io la raccolga ho sentito tutto all'improvviso e la mia allegria si manifesta con questo gesto di rabbia che non provo è tanto schifo rarmi